Finisce 3-1 per il Tolentino, la gara interna del Matese allo Statio Ferrante, una gara da dimenticare per i verde e oro, forse fra le più brutte viste finora con i primi 20 minuti in autentico stato di shock. Un po' meglio il secondo tempo, ma non poteva bastare contro una squadra, quella marchigiana, che certamente farà parlare di sé in questo torneo. Ma che cosa è successo? Il mister Urbano, da appena due settimane a Piedimonte Matese, a spiegarcelo e poi a seguire il mister del Tolentino. Mister, allora una partita un po' da dimenticare quella di oggi? Ma soprattutto il primo tempo, dove abbiamo approcciato malissimo, dove loro sono arrivati sempre prima sulla palla, sono arrivati sempre, vincevano i duelli, non siamo riusciti proprio a giocare, effettivamente abbiamo sofferto veramente tanto e per quello che hanno creato forse il risultato li stava pure stretto. Il secondo tempo credo che abbiamo fatto una partita un po' più dignitosa, siamo stati un po' più bravi ad andare ad aggredirli un po' in avanti e siamo stati più in partita, però poi dopo abbiamo preso il terzo gol, però alla fine siamo stati poco pericolosi, un po' perché anche l'aspetto mentale, quando vai, quando approcci così e vai in difficoltà, sembrava quasi che fosse caduta una montagna addosso. Dispiace perché soprattutto in casa questo tipo di prestazione non andrebbero fatte da nessuna parte, ma soprattutto in casa dove questo qui è sempre stato il nostro fortino, questo tipo di prestazioni non vanno assolutamente fatte. Invece una sorpresa positiva il portiere? Il primo tempo è stato iperimpegnato, si è disimpegnato molto bene, proprio per quello che ho detto prima, gli attaccanti e gli avversari si sono presentati 3-4 volte davanti a lui e è stato veramente bravo, altrimenti il risultato poteva essere anche più largo, però sotto l'aspetto mentale bisogna assolutamente reagire perché non può essere che alla prima difficoltà poi la squadra sparisca dal campo. Secondo lei alla fine, volendo fare un bilancio finale, sono stati più bravi loro, che proprio erano forti, oppure abbiamo dimenticato molto noi? Ma guarda, io questo lo devo scoprire nel senso che la forza della nostra squadra per me la potrò valutare settimana per settimana, non ci dimentichiamo che sono 8-9 giorni che adesso qua. Loro sapevamo che giocavano in questo modo, cioè molto aggressivi, molto bravi nelle ripartenze, palla sempre in verticale. L'avevamo studiata con la match analysis, l'avevamo visto, l'avevamo preparata ieri mattina, poi c'è stato pure l'infortunio di Nocerino che insomma al di là di qualche altra assenza proprio in quel reparto, Siska, Langellotti, insomma il reparto difensivo oggi era un po' rimaneggiato e abbiamo sofferto tanto. Domenica prossima il Trassevere? Una partita difficile? Ma guarda, in questo campionato sono tutti difficili, noi dobbiamo guardare in casa nostra, dobbiamo assolutamente tirare fuori qualcosa di più, perché quello che abbiamo fatto oggi è veramente poco, anzi è quasi niente, perché per portare a casa i punti in questo campionato c'è bisogno di approcciare con più determinazione, di lottare palla su palla, di arrivare prima, di lottare su ogni pallone, di vincere i contrasti e poi dopo casomai giocare, noi volevamo giocare e loro ci recuperavano palla e ci ripartivano e bisogna anche essere bravi a leggere le partite, quando la squadra avversaria non ti fa giocare devi andare a giocare nella metà campo avversaria, come? Scavalcando il loro pressing, mettendo palla su e andando anche tu a giocare sulle seconde palle, cosa che non abbiamo fatto. Ok, con l'allenatore di una squadra vincente e che ha giocato molto bene? Devo dire che è stato un approccio importantissimo, sappiamo le difficoltà che troviamo in questo campo con l'allenatore esperto, una squadra che ha voglia di riscatto, ma siamo partiti alla grande, un atteggiamento giusto e poi credo che il risultato ci ha premiato. Troppo forte il Tolentino o il Matese non ha giocato la sua partita? No, noi abbiamo espresso ritmo, abbiamo dato intensità, una squadra molto giovane deve migliorare, dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorare e poi magari siamo stati bravi a limitare la forza del Matese. I vostri obiettivi? No, i nostri obiettivi è fare un percorso bello, non sappiamo dove arriveremo, ma è difficile, lo sappiamo, ma vogliamo fare un percorso bello. Grazie a tutti. Grazie a tutti.